Ciao, bentornati su Creative Bane! Oggi parliamo di Toy Story, un nuovo diorama, quindi una cosa che non avevo mai fatto prima, per cui è la prima volta che vedete la stanza di Andy! Le misure questa volta erano un pochino obbligate, quindi dimentichiamoci i diorami precedenti e abbiamo così deciso con la cliente di fare quindi una porzione di quella che è la stanza di Andy! Per rendere tutto più armonioso e sinceramente anche perché non potevamo farlo nella scala reale, cioè ricordiamoci che questi sono straordinari giocattoli e che quindi se l'avessimo dovuti fare in scala il letto sarebbe stato tipo 60 cm grande, solo il letto! E quindi cosa ci siamo immaginati con la Sara, che è la ragazza appunto che me l'ha commissionato? Ci siamo immaginati i nostri giocattoli, o meglio i giocattoli del mitico Andy, ma nel loro mondo, quindi tutto a grandezza naturale per loro! Quindi la scala che vedete è appunto in questo caso un 1,18 perché i personaggini sono della Bullyland, non sapremo mai come si pronuncia, che loro fanno dei prodotti secondo me meravigliosi perché hanno un costo veramente piccolo, cioè tipo 10 euro, 8 euro, dipende dal modello che voi scegliete e sono figure statiche che io consiglio a chi ama la Disney perché lo fanno solo per la Disney, solo per i personaggi Disney e vedete che però poi nei diorami, cioè quindi messi in un contesto anche dioramistico, sono veramente veramente belli a parte che hanno delle espressioni secondo me bellissime, io in questi giorni li ho potuti veramente amare tanto e guardare ogni dettaglio e ripeto, questo è veramente, anche se magari avete bambini o persone che amate, a cui piace uno dei tantissimi cartoni Disney, sappiate che la Bullyland fa queste figure statiche comunque io non devo pubblicizzare nessuno, era solo per darvi un consiglio, ma pubblicizziamo invece il diorama di creative vani perché se no ci stanno a fare allora, il diorama è chiaramente come vedete il legno, è chiaramente costituito per la maggior parte il legno grazie al mio meraviglioso scultore 3D Simone che ringrazio sempre, lo trovate su Instagram come l'artigiano digitale ho potuto ricreare veramente precisamente il letto di Andy che ha una struttura bellissima, molto tondeggiante ma molto complessa insomma, parliamosi chiaro, non ero in grado di farlo a mano e quindi ho pagato Simo perché lui è il mio scultore 3D per farmi creare da lui il file che poi ho stampato e chiaramente dipinto a mano le altre cose sono praticamente tutte in legno, il celeste e le nuvolette anche quelle le ho dipinte io a mano e qui chiaramente c'è quella parte in legno che ha un nome ma... ah, vabbè, mi sfugge... ok, vabbè, questo ha un nome, ce l'avevo anch'io a casa mia, solo marroni scuro, nella casa dove sono nata e la cameretta di Andy appunto ha questa parte e quindi diciamo anche se si tratta solo di una parte della camera penso che si possa vedere bene tutto diciamo quello che era il fulcro centrale e la carovana immancabile, perché questa era piena di giocattoli, se vi ricordate la dipinta Andy io ho cercato effettivamente di ridipingerla male, ma così male esattamente come aveva fatto lui quindi un po' scontrandosi con le proporzioni, scontrandosi con i colori anche questo non è stato sinceramente semplice farlo, non è una stampa 3D, è fatto a mano con l'XPS che è un po' diciamo quello che si usa prevalentemente nei diorami quindi non c'è molto altro da dirvi su questo girama, se non che il mio cuore ha veramente registrato qualche battito in più perché questo secondo me è il cartone che più di tutti veramente fa capire che legame c'è tra noi cioè che possiamo essere sia bambini che adulti e i giocattoli e questa è una cosa che io sinceramente non ho perso, anzi probabilmente mi è aumentata veramente e a tal proposito a fine video vi dirò una cosa quindi restate con me mi è aumentata veramente e comunque è veramente, perlomeno era veramente fondamentale per noi bambini vorrei che anche i bambini di adesso riscoprissero proprio il gioco, cioè il creare avventure dai ve lo ricordate Andy che era sempre nello spazio con Buzz questo fa veramente la differenza, fa veramente la differenza io a tal proposito, non c'entra niente con questo diorama, per il mio compleanno che è stato qualche giorno fa mi sono autoregalata, prendendoli su Vinted perché sono giocattoli molto vecchi tutta una serie di, chiamiamole action figure, di Pocahontas e Aladin quindi sicuramente quando potrò vedrete anche questi due diorami con le action figure della Mattel datate 92 e 94 rispettivamente le avevo quando ero piccola, veramente sono state per me, non esagero cioè io ci giocavo le ore, le ore e ricreavo il cartone quindi questo era un po' una cosa mia personale che avevo in realtà piacere di comunicare alle persone che vedranno questo video quindi io vi saluto perché questo bimbo adesso va impacchettato e spedito alla Sara ringrazio Sara per avermelo commissionato e ci vediamo col prossimo diorama